ma si sta battendo un porri da nessuno perché qui c'è l'Etna che sta scoppiando se siamo i primi a pubblicare queste cose poi non ci potranno dire gli altri noi l'abbiamo capito quelle tasse aiutane, non ci siamo i primi voglia di andare a fuori da l'asso un po' bello questo giro cazzo non vuole capare ma potremmo andare a contaglia non vuoi fare a contaglia non vuoi ricordare che ho detto che ho fatto a contaglia è stato un po' bello il suo passato è stato un po' bello è stato un po' bello ci sono rispite una percola la prima di più un po' bello è stato un po' bello Sì 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 Madonna che esplosione Madonna 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.